I televisori LG della serie UH650V sono Smart TV dotati di pannello LED con risoluzione Ultra HD 4K e tecnologia HDR Pro. Questi TV presentano un esclusivo design con schermo ultra sottile che dona una sobria eleganza al tuo salotto e restituisce un'esperienza di visione spettacolare. Le diverse connessioni sono facilmente raggiungibili sulla parte posteriore dello schermo e permettono di interfacciare il TV facilmente con ogni tipo di elemento esterno. UH650V è sinonimo di qualità LG. La tecnologia IPS 4K rende i colori più reali, vivaci ed intensi grazie ai pixel a 4 colori e alla risoluzione 4 volte superiore al normale Full HD. Innovazione anche per quanto riguarda il suono dei TV LG. Le immagini sono accompagnate da una qualità di suono elevata. Infatti Ultra Surround amplifica la potenza dell'altoparlante ottimizzando l'esperienza di visione. LG UH650V è dotato della piattaforma WebOS che introduce un'innovazione straordinaria nell'interfaccia utente. Cliccando semplicemente sul tasto Home puoi selezionare contenuti e funzioni dall'home page nella parte bassa dello schermo con la possibilità di passare dalla programmazione in onda a quella da te selezionata. Inoltre Magic Mobile Connection permette di condividere i contenuti dello smartphone direttamente sul proprio TV e grazie al wifi integrato sarà possibile navigare su internet con facilità, sfogliare le notizie appena uscite o chattare con gli amici sui social network. LG ci regala un dispositivo TV dal design elegante adatto a chi non vuole rinunciare al meglio dell'intrattenimento direttamente dal proprio divano. a chi non vuole rinunciare al meglio dell'interfaccia utente. Grazie.